Michelle Hunziker stata prigioniera di una setta. Lo ha rivelato la presentatrice svizzera in una lunga intervista con il Corriere della Sera. Mettendo a nudo paure a lungo nascoste e finora condivise solo col marito Tommaso Trussardi. La prima volta che racconto questa storia. Finora ho nascosto tutto persino a mia madre. L'unico con cui ne ho parlato stato mio marito Tommaso. Spiega Michelle al quotidiano. Spiegando di essere incappata nel culto quando aveva 23 anni ed era ancora legata a Eros Ramazzotti. Padre della figlia Aurora. Una volta uscita da L è stato un continuo tentativo di ricostruire la mia vita. Non stato facile accettare che fosse successo proprio a me. Ho sofferto di attacchi di panico e per anni ho creduto che sarei morta di L a poco. Per soffocamento. Come aveva previsto la setta. Dopo una lunga sofferenza nel 2006 la Unzichera ha tagliato i ponti con la setta. Perdendo tutto quello che aveva. Compreso la famiglia. Il marito. Il rapporto con la madre. Ero la gallina delle uova d'oro. Ma sono stata derubata soprattutto della Digni. Nella setta cerano direttori di giornali. Conduttrici TV. Autori. Magistrati. Poi allontanati. Io ero sufficiente al progetto. Altro su MSN. Michel Unzicher fa il generale con Aurora. Ordini. Flessioni e finale divertente. Corriere TV.